È inibito, fino a diversa comunicazione, l'uso delle acque distribuite per il consumo umano. Una limitazione che riguarda Mezza Palermo lo prevede un'ordinanza firmata oggi dal sindacolo Luca Orlando sulla base delle analisi dell'ASP 6 effettuate lo scorso 25 febbraio. L'acqua non può essere utilizzata in particolare per bere, per le imprese alimentari, per la reidratazione e ricostituzione di alimenti, per la preparazione di alimenti e bevande in cui l'acqua costituisca ingrediente o entra in contatto con l'alimento per tempi prolungati. Secondo l'ordinanza comunale è vietato l'utilizzo dell'acqua anche per le pratiche di igiene personale come il lavaggio dei denti, mentre è possibile fare la doccia. La MAPA ha aumentato la clorazione delle acque in rete che sono costantemente monitorate e di recenti controlli analitici effettuati non hanno evidenziato criticità e non sono chiare le cause che hanno portato all'indoneità al consumo umano delle acque. Le zone interessate dal provvedimento sono Lungomare Cristoforo Colombo, Mondello, Partanna Mondello, Zen, Marinai Agliata, Giusino, Castelforte, Pallavicino, Villargio Ruffini, Lanza di Scalea, San Lorenzo, Villa Adriana, Sottorete 5, Libertà, Cruillas, Baida, Strasburgo, Lazio, Leoni, Fante, Resuttana, San Lorenzo, Santuario, Sottorete 11, Noce, Uditore. Grazie a tutti.